Il leggero incassa tre punti a tavolino e sale a quota 34 in classifica e con una gara ancora da giocare. I biancazzurri ieri non sono scesi in campo per la rinuncia del due torri e come da regolamento hanno ottenuto la vittoria. E tra due giorni si recupererà la gara con il sarsale non disputata domenica 15 gennaio per le abbondanti nevicate che hanno interessato il comune calabrese. I gelesi sanno che si tratterà di un impegno non facile. Non tragga in inganno la classifica dei cadanzaresi penultimi con soli 5 punti e ieri battuti per 2-0 dalla Palmese. Davanti al proprio pubblico il sarsale ha sempre dato filo da torcere agli avversari e così sarà anche mercoledì. La gara avrà inizio alle 14.30. Il dato di fatto è che il Gela si è dovuto fermare per due domeniche di seguito. Sicuramente non è un bene soprattutto dopo aver inaugurato il girone di ritorno col botto vincendo per 3-0 al Presti contro il Pomigliano. E il calendario dopo la trasferta di mercoledì a sarsale obbligherà la truppa allenata da Pietro Infantino a giocare nuovamente in trasferta. Domenica infatti nasce compagni saranno di scena Santa Maria Capovetere contro il Gladiator. La squadra campana a sua volta dovrà recuperare la partita con la capolista Egevirtus non giocata ieri per maltempo. La giornata di ieri oltre allo stoppo forzato degli Igeani e dei Campani ha fatto registrare la vittoria delle più dirette inseguitrici dei Giorossi. Il Rende ha battuto per 4-0 la Sarnese e la Sicula Leonzi ha ottenuto tre punti contro il Castrovillari grazie al successo per 2-1. Non è andata oltre il pari invece la Cavese fermata sullo 0-0 ad Aversa. In sostanza comanda sempre l'Igea che ha un punto di vantaggio proprio su Rende e Cavese e Sicula Leonzio ma come dicevamo con una partita ancora da giocare. Per quanto riguarda invece la salvezza ottimo passione avanti della San Cadaldese che ha regolato il Roccella. Tornando al Gela, i Biancazzurri attualmente hanno tre punti di vantaggio sulla Turris che ieri è stata fermata tra le mura amiche dalla Frattese.